Monica Salinaro, responsabile del personale della cooperativa Nuova Luce, insomma come va? Diciamo che va bene, rispetto per quanto riguarda i nostri numeri, siamo partiti con un minimo di dipendenti per passare a 150, più di 150 dipendenti a tutt'oggi. Un'azienda quindi di successo perché oggi parliamo di 150 dipendenti, quindi insomma la ricetta di questo successo qual è? La ricetta è l'impegno quotidiano di tutti i giorni, la costanza e comunque la nostra presenza sul territorio. Voi offrite servizi sia al pubblico che al privato, vogliamo intanto capire dal punto di vista delle richieste che vi giungono dei privati, qual è la situazione e quali sono le tipologie di richieste? Diciamo che le richieste che noi riceviamo sono per la maggior parte richieste di assistenza per anziani, malati o malati di Alzheimer, la maggior parte delle nostre richieste sono queste, però noi offriamo anche altri tipi di servizi rivolti anche a disabili psichici o minori o altro. Perfetto, quindi numero in crescita, lo staff è giovane e determinato e non resta che farvi complimenti. Grazie Buon lavoro Grazie